Edokè ragazzi, bella a tutti e benvenuti qui in questo mio nuovissimo video Sigla Edokè ragazzi, allora abbiamo cambiato cappello, abbiamo cambiato maglio, abbiamo cambiato tutto ragazzi E oggi siamo qui in un video, anzi nel video dove andremo ad aggiustare il nostro armadio Perché si ragazzi, il nostro armadio, diciamo, dei vestiti è a dentro di tutto e di più ragazzoni Da scarpe del lavoro, da tute del karate, a palestra, magliette, abiti belli, brutti Quindi direi che andiamo subito a fare un bel lavoro Ok ragazzi, ovviamente per fare i video ci aiuteremo con il nostro treppiede, perfetto Con il nostro treppiede e telefono per fare ovviamente il video veloce Cappelli, gamesweek 1 e gamesweek 1-2 anche con la firma ragazzoni Giacchettine tranquille ragazzoni Pottino bello, easy peasy, lemon squeezy E ragazzi, ovviamente, camicetta estiva Potrebbe essere un bel casino ragazzi E meno male che avevamo appena aggiustato la stanza raga GG Che cosa dobbiamo andare a fare ragazzi? Allora, questi qui erano i libri che avevo in fondo al mio armadio ragazzi Questo qui era il mio libro d'inglese Che ho detto mi potrà servire poi magari alle superiori Quindi l'ho tenuto, era un libro delle medie ovviamente ragazzi Quaderno di scuola vecchio Poi questo qui era il mio libro di, cioè non so se, questa è quella mia faccia Il mio libro di italiano, grammatica Quindi veramente assurdo ragazzi Anche questo qui delle medie perché ho detto Magari alle superiori mi servirà o comunque in futuro mi servirà E lo terrò comunque ragazzi Quindi questo qui va con un libro d'inglese Anche se ormai la scuola è in pratica finita Questo è un quaderno vuoto con ricette di pasticceria Quindi le ricette che faccio a casa Magari ecco, le ricette in cucina con Tia Le andremo a scrivere tutte qui Quindi preparatevi a un prossimo video Il terzo episodio di In Cucina con Tia Il terzo episodio di In Cucina con Tia Poi ragazzi, magliette Allora, magliette in realtà me le dovrei provare tutte Perché devo vedere quelle che mi vanno grandi, grandi Che non mi piacciono le tovia E a qualche morale a qualcuno che gli servono O comunque le do via, non le tengo Mentre quelle piccole, anche se sono dimagrese un botto Quindi peso mi vadano tutte E non ci sia quel problema Le andiamo a dare anch'esse via Anche perché adesso mi devo aggiustare bene l'armadio Quindi partiamo subito E' bella raga Allora, siamo qui il giorno o due giorni dopo Come vedete la stanza è in questa situazione assurda Ma avete visto anche qualche volta il live Ma va bene, l'avevo appena pulita ragazzi Quindi cc E mi son preso una piccola pausa E ho provato tutte le maglie Vi ho messo anche il video velocizzato prima Ho pulito l'armadio Ho iniziato già a mettere qualche maglietta nuova Poi sotto ovviamente è tutto vuoto E adesso ragazzi Non sapevo se fare questo clip o no Però sto lavorando a Stream Elements Che sarebbero tutti i comandi Che in teoria voi potete già utilizzare Oramai, già da ieri Potevate utilizzare perché questo video è uscito Oggi è il 23, domani è il 24 Quindi oggi, è uscito oggi 20 di venerdì 24 Quindi ragazzi adesso potete utilizzare i comandi Io vi ricordo che sono in live oramai Tutti i giorni avete o un video o una live O se siete fortunati anche tutte e due Vi lascio il link ovviamente in descrizione O nella linea in alto a destra Di quando faccio video live Quindi bella, piccolo Io continuo qui con questo lavoro E poi ci vediamo Allora ragazzi Mi sto guardando Gabbo Va bene, non ho messo a fuoco Va bene E vado a prendere l'aspirapolvere Perché diamo una pulita Quindi tiro via tutto per terra Aspettate però Ok, tiro via tutto da per terra Pulisco, pulisco Magari anche sapete gli angoli Perché prendo l'aspirapolvere con il tubo Mi rifaccio il letto Pulisco anche dentro Boh, magari c'è un po' di polvere Comunque do una passata Iniziamo a mettere tutto a posto E ci andiamo a mettere a posto le tute Tutte quelle cose lì Ecco, daia Luisa Luisa Un po' di polvere E ci andiamo a mettere un po' di polvere E ci andiamo a mettere un po' di polvere E ci andiamo a mettere un po' di polvere E ci andiamo a mettere un po' di polvere Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ragazzi, allora, intanto è che ho risvegliato il mio iPad da un botto che non lo accendevo. Comunque si presenta così il armadio. Camicetta con i cappelli, infatti adesso ho il cappellino nuovo firmato al Games Week di Milano, quindi tanta tanta robetta. Poi qui metterò i miei pantaloncini corti perché adesso lì ho un altro cassetto. Ma ho visto che stiamo iniziando a ripulire tutto e quindi quella pigna va via e anche queste cose. Quindi sarà ripulito tutto come lo scorso video. Per il momento lasciamo così. Quindi maglie che mi metto per uscire, quelle che uso di meno dietro, pantaloncini, palestra in casa, camicetta corta, cappellini. Poi qui felpe sia aperte che chiuse e sotto tipo qualche tuta che oramai non metto più e qualche pantalone lungo bello tipo jeans o quello lì a righe. E quindi diciamo questo qui è il mio armadio minimal. Qui invece sono andato, come avete visto dal video veloce, se ve l'ho fatto vedere, a mettere le due giacche lunghe. Perché se no mi dava fastidio perché già qui la camicetta è proprio a pelo. Però mi danno fastidio qui davanti perché sono troppo lunghe e quindi non riesco poi a mettere le mani sotto, capite? Quindi niente, io direi che per questo video è tutto. Io direi così. Per il prossimo video sicuro vedrete tutto pulito, ma veramente tutto fatto molto bene. Ragazzi, quindi vi saluto, vi ringrazio e un bacio. Bella!